Sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così pungente come la violenza sulle donne è sicuramente importante, ma farlo partendo dall'età pre-adolescenziale lo è ancora di più. È stato questo l'obiettivo del Centro Antiviolenza Io Sono Mia di Bitonto, in collaborazione con la rete comunale Bitonto Palo del Colle, la Regione Puglia e l'Associazione Anestetico Urbano, che nella sete dell'Istituto Vitale Giordano, quest'oggi 18 aprile, hanno dato vita a Fake Love, un'esplorazione coinvolgente sulle dinamiche delle relazioni affettive che si propone di puntare una luce sulle relazioni tossiche, stimolare la consapevolezza e promuovere una cultura di relazioni sane e rispettose. Si tratta della prima mostra di arte visiva itinerante sul tema della dipendenza affettiva molto diffusa tra i giovanissimi e le giovanissime. È importante prevenire la violenza maschile contro le donne partendo dalle scuole. Abbiamo il mese scorso terminato i progetti all'interno delle scuole dell'infanzia di Bitonto e Palo del Colle perché è importante prevenire la violenza sin dalla tenere età. Il Fake Love ha un aspetto molto differente rispetto alle solite mostre, ovvero ha una componente interattiva fondamentale per la fruizione della mostra. Tutto avviene innanzitutto scanalizzando un QR code che dà avvio sia a un questionario anonimo, questo ci permetterà di avere poi a fine di tutto il percorso della mostra dei dati che quindi ci faranno scoprire, ovviamente tutto è anonimo, quindi dei dati che ci fanno scoprire in maniera anonima che cosa accade in questa fascia d'età. E poi delle istruzioni che permettono ai ragazzi appunto di visitare e di interagire con le varie opere. I mezzi che sono stati utilizzati sono mezzi comuni, come dicevo, quindi abbiamo l'utilizzo di un video WhatsApp, degli specchi che riflettono tutta una serie di parole che vengono spesso scritte e con cui ci si trova poi a fare i conti. fonti di giornale, ci sono tutta una serie di appunto mezzi che abbiamo inserito proprio per cercare di coinvolgere al meglio e il più possibile appunto questa fascia d'età. Come al solito importante è stato l'appoggio della scuola e delle istituzioni comunali che ancora una volta hanno sottolineato quanto sia importante cominciare dal basso la buona cultura del rispetto. L'educazione effettiva e sentimentale dei nostri giovani purtroppo, lo devo dire io che dirigo una scuola, è colpevolmente trascurata nelle scuole italiane. Dovrebbe avere molto più spazio ed essere sistematizzata e portata avanti in maniera rigorosa, educativa e scientificamente fondata. Questo non avviene, quindi noi abbiamo tutte le occasioni e le cogliamo di collaborare con chi questo tipo di educazione lo fa. Abbiamo attuato anche a Bitonto un tavolo d'intesa sul codice rosso, stiamo mettendo in atto una serie di progettualità e di condizioni per arrivare tutti quanti insieme ad un punto comune laddove diciamo ci sia una violenza in casa, quindi arrivare e partire sicuramente da un rapporto malato e far riconoscere ai ragazzi laddove non c'è un rapporto neutrale tra di loro è fondamentale. La mostra resterà attiva alla Vitale Giordano fino al 18 di maggio.